Mi dico che c'è stato un momento, quello può dire anche la società, che mi volevo dimettere, perché mi aveva avuto veramente la voglia di smettere. Poi sono stato due giorni a Ferragosto in un feudo juventino di tifosi juventini, sul mare, e tutte le persone mi sono venute incontro, i juventini mi dicevano, ci scusi mister, noi ci piaceva vincere, ma ci piaceva vincere in modo giusto, non così, e si sono scusati. Ho detto questo, allora, le ha dato coraggio, vuol dire che si può rimanere per cambiare qualcosa, cambiare qualcosa. Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare, e voi potete cambiare, voi potete cambiare. Tutto il mondo può cambiare. Sì, si può cambiare. Ho detto questo, allora, le ha dato coraggio, vuol dire che si può rimanere per cambiare qualcosa. Sì, 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 sì.